Scontri, morti e accuse reciproche tra i sostenitori di Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara. Non basta una stretta di mano simbolica tra i due candidati alla presidenza della costa d'Avorio, non bastano i sorrisi, non basta la mediazione del presidente del Burkina Faso che ha incontrato i due candidati ivoriani per tentare di garantire tranquillità al secondo turno delle presidenziali. A Abidjan, nel quartiere di Abobo, si sono registrati almeno tre morti dopo quello di giovedì. Sembra che la polizia abbia sparato sulla folla e che successivamente alcuni gruppi abbiano cominciato a circolare armati di bastoni e macete. Per questo il capo di stato maggiore dell'esercito ha annunciato l'istituzione immediata, già da ieri sera, del coprifuoco. Il provvedimento, che inizialmente avrebbe dovuto entrare in vigore dopo il voto di oggi, era stato preannunciato dal presidente uscente Laurent Gbagbo, ma il campo opposto aveva subito detto che non l'avrebbe rispettato perché apre la porta alle frodi. aveva spiegato Ouattara, che aveva quindi invitato i suoi militanti, i suoi sostenitori e anche il resto dell'opposizione a non rispettarlo.